Si sta avvicinando il momento cruzoni della serata, il nostro cardinale Piorghino Giulio della Rova del fratello del Duca Quinovaldo II ha deciso di onorare l'amata città di Fossombrone e il suoio di tanti organizzando il torneo cavalleresco al quale potremo assistere le metà 20 domani. Nel frattempo, al Palazzo dei Comuni, 30 anni della città, Serra San Francesco Cantari, Serra Don Nicolari, Serra Di Troppi Ruzzini, insieme ai mandi e ai personali, stanno discendendo per incontrare il cardinale. E' il momento più importante della serata. Racconta Morazzo Altanaggio che il cardinale non fece risparmio di gloria per i magnifici